Grazie a tutti. Guarda a paesi dai quali oggi muove un'ondata migratoria epocale. Milioni di persone travolte dalla guerra, dalla povertà, dalla mancanza delle condizioni minimali dell'esistenza umana. Un fenomeno che chiama all'impegno ogni Stato europeo e ciascuna delle sue componenti sociali. La magistratura non resta estranea a tutto questo. Nelle complesse dinamiche, determinate da un esodo tanto imponente e dalla conseguente necessaria integrazione, esiste un ruolo fondamentale dei giudici che non è solo quello di perseguire chi specula sulla disperazione, ma anche e soprattutto quello di presidiare con fermezza i diritti di tutti, di assicurare le garanzie fondamentali a chiunque e così rivendicare la irrinunciabilità dello Stato di diritto, rivendicare la giurisdizione come sede della composizione dei conflitti all'interno di un sistema di regole che origina dall'attribuzione di uguale o dignità a ogni persona senza distinzioni. E dunque in questa terra di frontiera, dove più di venti anni fa approdò la motonave Vlora con il suo carico di umanità e che da allora accoglie con generosità i disperati della terra, che oggi la magistratura italiana si riunisce per interrogarsi sul ruolo del giudice nella società che cambia. Ma nella Puglia in questi anni sono maturate altre vicende, a loro volta emblematiche delle trasformazioni che interessano il tessuto sociale, economico, culturale dell'intero Paese provato dalla crisi. Anche per questo appare scenario adeguato nel quale riflettere sul ruolo della giurisdizione e sull'adeguatezza della risposta giudiziaria. Penso alla crisi della grande industria, l'Ilva di Taranto, una realtà che come poche racchiude i problemi che oggi si pongono all'attenzione dei giudici. La tutela dell'occupazione, la tutela della salute, la tutela dell'ambiente, le ricadute sull'economia delle iniziative e delle decisioni della magistratura e con esse il tema del delicato equilibrio nei rapporti tra poteri dello Stato. Penso all'agricoltura delle nostre campagne, segnata in maniera scandalosa dal fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori e da un sistema di intermediazione nella mano d'opera che ha abbandonato le forme rudimentali del caporalato e ne assunte di nuove più sofisticate, per questo anche più pericolose sfuggenti. Un cambiamento dentro il quale quello che resta sempre uguale è il morire dei lavoratori, sotto il sole, nei campi di pomodoro o nelle vigne. Le morti bianche di un lavoro nero in una regione con un triste primato di infortuni sul lavoro. Solo una settimana fa, qui a Bari, hanno perso la vita due lavoratori, uno a distanza di poche ore dall'altro. Tragedi irrimediabili che chiamano la magistratura ad un rinnovato impegno, alla ricerca di sinergie virtuose con tutte le istituzioni, all'interno di una collaborazione che, senza negare la specificità dei ruoli e delle professioni, assicuri tuttavia una risposta dello Stato unitaria e per questo efficace ad ogni forma di sfruttamento, di umiliazione, della dignità umana, di sopraffazione. Domande di giustizia, queste, come tutte le altre, da soddisfare in tempi ragionevoli. Una sfida che ha raccolto la magistratura, oggi sempre di più investita anche di responsabilità organizzative, cui non si sottrae nella consapevolezza che razionalizzazione delle risorse e programmazione degli impegni costituiscono la cifra irrinunciabile per conseguire il risultato. Una ricerca non facile dell'equilibrio tra qualità della giurisdizione e quantità della giurisdizione, che impone tuttavia una riflessione attenta, soprattutto all'interno e prima di tutto all'interno della magistratura. L'Associazione Nazionale Magistrati e questo congresso rappresentano la sede privilegiata per ragionare intorno a temi tanto delicati e per maturare una cultura e un agire manageriale della giustizia che restino comunque nel solco dell'impianto costituzionale, rispettose della complessità della giurisdizione. Può essere questa riflessione l'occasione anche per rivendicare con forza la funzione positiva e virtuosa, l'unica accettabile, delle correnti magistratura. Le critiche a riguardo, ragionevoli perché fondate su prassi a volte mortificanti e comunque lontane da tensioni ideali che originarono le diverse componenti della magistratura, resteranno superate se si fa luogo ad una ricerca comune, arricchita dalla diversità delle prospettive, sostenute dalla consapevolezza che è solo nella molteplicità delle esperienze che può maturare il metodo del confronto dialettico dal quale scaturisce il migliore dei risultati possibili. Ribadire la possibilità di declinare diversamente uno stesso impegno civile, una stessa passione ideale, un medesimo senso di appartenenza è la strada per riscattare la magistratura da quelle critiche e insieme costituire un'argine a possibili derive cliente rari. Soprattutto, e con questo auspicio concludo, rappresenta il migliore testimone da consegnare alle giovani generazioni di giudici. Dentro qualsiasi cambiamento, nella magistratura e in ogni magistrato, deve restare ferma la capacità di ascoltare l'altro e di praticare il confronto.